ciao a tutti questa sera voglio mostrare come tradurre un numero in numero romano l'unica limitazione che il numero può andare da 1 a 3999 e andiamo a fare un demo creare qualche numero in automatico poi ci mettiamo per esempio 100 500 700 potete divertirvi troppo ok la funzione molto semplice si chiama roman uguale roman e gli si dà in pasto il numero eccolo qua molto carino ho trovato questa funzione davvero divertente se provate a dare un numero più grande di 399 di restituisce un errore peccato però davvero davvero interessante anche per questa sera tutto ciao